salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video siamo appena ritornati dalla crociera che si chiama costa fascinosa è una nave bellissima e super grande oggi vi parlerò di alcune cose che a me mi sono piaciute tanto cominciamo col ristorante i cibi sono deliziosi buonissimi succolenti e ci sono dei camerieri gentilissimi e ora vi parlerò anche della piscina le piscine sono alcune al chiuso e alcune all'aperto quelle all'aperto sono bellissime ma anche quelle al chiuso perché sono gigantesche e c'è uno scivolo gigantesco giallo con tutta l'acqua che scorre e poi c'è il mini club è super bello ci sono un sacco di giochi ci sono le serate a tema tipo ci sono le serate pirati e poi c'è il tempo libero dove si può decidere di guardare un film oppure di disegnare o giocare e poi c'è la discoteca aperta da mezzanotte in poi ed è fantastica e la cabina ha dei letti comodissimi super soffici e belli e avrete a disposizione una tessera per uno con quella tessera potrete ordinare cibo a volontà e bevande e c'è pure il my drinks e vi consiglio tantissimo di andare a fare questa crociera ricordatevi di iscrivervi al canale lasciare un bel like ciao 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 ciao